sintomatico del suo obiettivo. La Camera respinge 20 accolto, 21 accolto. Sulla ordine del giorno dell'Ai, il Governo ha chiesto la parola per cambiare il parere. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Lo accoglieremo come raccomandazione previa una riformulazione che leggo. Impegna il Governo a valorizzare il volontariato quale parte integrante del sistema di protezione civile, verificando anche la possibilità di mantenere i presidi dei vigili del fuoco volontari oggi attivi e valutare di porre in essere, in accordo con Regioni e Comuni, ogni iniziativa idonea a diffondere e rafforzare sul territorio nazionale il modello europeo del volontariato di protezione civile, sostenendo in particolare le attività rivolte ai ragazzi sulla base delle positive esperienze degli allievi vigili del fuoco. Grazie. Se il presentatore accetta, perfetto. Allora abbiamo concluso così l'esame degli ordini del giorno. Passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Pastorelli. Prego, noi a facoltà. Grazie, signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Il disegno di legge che ci aggiungiamo a votare... Colleghi, uscite un po' tranquillamente dall'aula, così possiamo sentire... Però lei deve cambiare postazione perché c'è qualcosa che non funziona sul suo microfono.